Ancora una grande folla sui viali a mare. Anche il quarto corso del carnevale, trasmesso come di consueto da Noi TV, ha fatto registrare il pienone nonostante il tempo non bellissimo che comunque non ha impedito la festa di musica e colori in passeggiata. La quarta sfilata dell'edizione 2023 ha visto la partecipazione di Miss Italia, Lavinia Abate, 18enne di Roma, che non ha nascosto l'emozione di partecipare all'evento. Molto emozionato, davvero un'esperienza stupenda che mai mi sarei aspettata così grande, quindi davvero contentissima. Anche quest'anno al carnevale ha partecipato l'Avis, l'associazione dei donatori di sangue, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante tema della donazione, che deve essere una gioia, come il carnevale. Si possono mettere insieme gioia, solidarietà, momenti di comunione e di comunità sui valori della promozione umana. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare oggi, perché non deve essere una tristezza donare. È una cosa che fa bene a noi e fa bene agli altri e quindi questo ci deve accompagnare in questo spirito di solidarietà. Tra gli ospiti d'onore è anche l'attore Neri Marco Re, che ha già ricevuto il burlamacco d'oro e che ha prestato la sua voce per lo spot di lancio del carnevale di quest'anno. Mi ha fatto piacere aderire a questo invito e quindi sono qua per la prima volta a vedere il carnevale, perché le altre volte che sono passato da Via Reggio non era periodo carnevalesco e quindi sono anche molto curioso di vedere da vicino quelle cose che magari vedevo da ragazzo in televisione e quindi insomma è bello, sono contento di essere qua. Adesso l'attenzione è tutta rivolta all'ultima settimana di carnevale con i due corsi finali, ambedue in notturna, quello di martedì 21 e quello di sabato 26 febbraio, al termine del quale saranno decretati i vincitori.